Dottor Burculeri, domenica il Gela e lei in particolar modo potete descrivere la storia, ritornare in serie di La Città lo Aspetta, domenica scorsa a Paceco si è verificato un incidente di percorso, l'importante è battere il Corso Palermo e poi si festeggia tutti assieme. Sì, una bella cordonizia di pubblico insieme alla città, tutti, insomma. Una giornata importante, una giornata che può colorare un sogno, quello di realizzare la Serie D e di portare il Gela sinceramente dove penso che già a partire da questo gradino dove merita, per il blasone, per quello che è stato nella storia, ci sono tante cose, tante motivazioni in questa partita. In questa partita non si devono giocare, si devono solo vincere. Cosa teme del Corso Palermo? Che è in lotta per non retrocedere? Non è un discorso di temere, qua non si teme nessuno. Rimane la consapevolezza che c'è una Serie D in palio, qualcosa di indescrivibile. Questi ragazzi tutto l'anno ci hanno creduto, hanno fatto un grandissimo lavoro. È chiaro che facendo questo grande lavoro ora rimane il peso di questa ultima partita, che saranno 90 minuti più il recupero cruciale, fondamentale, dove dobbiamo tenere alta la concentrazione, alta la serenità, soprattutto mentale. Non penso che possiamo avere paura del Corso Palermo domenica. domenica conterà solo le motivazioni a livello motivazionale, conteranno tantissime cose. Il calcio è qualcosa di bello, che accomuna anche tutte le classi sociali, è uno spettacolo vero e proprio. Questa è una festa della città. Lo spumante è in frigo, pronto a stapparlo? Alle 17.45 domenica lo sappiamo. Sì, il Presidente è stato molto bravo a tenerlo in frigo, ho voluto ancora dare un'altra settimana a questo, però non sottovalutiamo niente, non trascuriamo niente. Un avversario che nelle ultime due partite li ha vinte tutte e due, che gioca tra la vita e la morte, perché una sconvitta a Gela significa retrocessione diretta, per cui vedi che tipo di partita sarà. Questa è la partita del girone, altre sicuramente non avranno lo stesso fashion.